Sì, no. Vince il no ad Ortignano-Raggiolo e quindi la fusione tra i comuni di Bibiena e Ortignano-Raggiolo viene annullata. I votanti nel piccolo comune del Casentino, Ortignano-Raggiolo, sono stati 471 per il 62,7% degli aventi diritto. Al no sono andati 278 voti, al sì 189. Nel comune di Bibiena invece ha vinto il sì. Su 3.286 votanti pari al 35-44% degli aventi diritto, il sì ha ricevuto 1.831 voti, il no 1.432. C'è paura a commentare, nel senso che ancora una volta i bibienesi hanno dimostrato, a mio avviso, di avere lungimiranza e di guardare avanti pensando di progredire, perché questa è un'occasione persa. Il resto, appunto, a mio avviso è un'occasione persa, ma la regola dei comuni più piccoli che probabilmente si sentano sovrastati dai più grandi vale ancora e quindi non è di fatto.